Allora buongiorno, buongiorno ragazzi, eccomi qua sempre puntuale, orario di pranzo, da lì non mi smuovo, va bene ragazzi a parte gli scherzi, buon inizio settimana, buon lunedì a tutti voi, cominciamo quest'altra settimana e ahimè, ahimè, questa settimana cinque estrazioni ragazzi, questa sera, oggi è lunedì, estrazione insolita, come giornata estrazionale per il semplice fatto che venerdì è stata la festa dell'immacolata e quindi l'estrazione è stata spostata, verrà recuperata questa sera, quindi ahimè, questa settimana cinque estrazioni, mamma mia, mamma mia, stiamo diventando tutti dei babbi natale, mamma mia. Allora ragazzi, cominciamo a fare un'analisi, vando alle ciance, cominciamo a fare un'analisi delle ultime estrazioni. Allora, vi ricordate, e adesso dobbiamo andare un attimo indietro, al 2 dicembre, su Bari, Ambo di uguale cadenza, 42 e 32, 42, 42 e 32, io qui vi ho fatto, vi avevo fatto lo schiebino, se vi ricordate. Spero che si veda bene, perché mi metto sempre in controluce, oh ecco qua. Allora, Ambo di uguale cadenza, lo rispiego per i nuovi scritti, Ambo di uguale cadenza, se aggiunge il numeretto all'unità, il numeretto deve dare somma 10, quindi al 42 e al 32 dovremo aggiungere 8, in modo tale che il 42 più 8 dia 50 e il 32 più 8 dia 40. Togliendo gli zeri, 4 e 5 si uniscono e avremo 45 e 54, che è sì un Ambo, ma attenzione perché sono anche i vertibili del 55, un altro numero forte, va bene, detto ciò, ritorniamo su questo calcolo. Dopo l'aggiunta del numeretto, quindi in questo caso del numeretto 8, noi possiamo fare la figura dell'Ambo. 42 figura 6, lo uniamo con l'8 e ci dà 68, vertibili del 86. Il 32 figura 5, lo uniamo con l'8 e ci dà 58, vertibili del 85. Un ulteriore calcolo che si va a fare è quello di sommare le due ambate, cioè 6 più 8 ci dà 14 e 5 più 8 ci dà 13. Va bene ragazzi? Allora noi prendiamo il 68 e il 58, con il 13 e il 14, d'accordo? E andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, scriviamo qui i nostri numeretti. 13, 14, abbiamo detto 68, anzi 58 e 68. Ok, partiamo sempre dal 2 dicembre e andiamo a vedere. Eh, guardate un po' ragazzi, un bel terno in quartina su Palermo. Non è uscito subito su Bari, d'accordo? Però, come diciamo sempre, si gioca sulla ruota di calcolo e si gioca a tutte come recupero. Questa è la regola dell'8 ragazzi. Eh? È la regola dell'8. Si gioca sulla ruota di calcolo, ma si mette su tutte come recupero. Perché sappiamo la lotta Italia come agisce. Non vi devo rispiegare tutto l'ambaradano. Ok? Va bene ragazzi? Allora, poi. E vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, alzeriamo qui. e andiamo nuovamente indietro al 5 dicembre. D'accordo? Allora. Quando voi trovate in prima posizione due numeri solo due, non di più. Due numeri della stessa figura come in questo caso l'estrazione di martedì. Abbiamo 6 sulla ruota di Bari. Dobbiamo cercare un altro numero di figura 6. Dove lo troviamo? lo troviamo su Torino col 24 perché 2 più 4 fa 6. Quando c'è questa condizione e vado avanti e vado avanti guardate adesso che cosa è successo. C'è stato lo scambio dei numeri. Bari 24 e Torino 6. Avete visto? Fateci caso a queste cose ragazzi. Poi ovviamente 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 trovando due numeri della stessa figura è ovvio che poi si può fare la somma. quindi 24 più 6 ci dà 30 oppure 3 30 più 24 54 30 più 6 36 e in linea di massima su Torino visto è considerato che abbiamo trovato il collegamento su Bari Torino in linea di massima con la sortita del 24 su Bari dovrebbe darci un 66 su Torino 66 attenzione 66 per la regola dell'8 66 i suoi vertibili sono 69 65 56 attenzione ai vertibili quando trovate un numero gemello oppure manca un numero gemello d'accordo ragazzi dovete pensare in anticipo a queste condizioni nel senso che vi dovete fare un po' più furbi nel senso che io devo pensare caspita mi manca un numero gemello c'è quel numero certo che c'è però attenzione perché potrebbero uscire i vertibili quindi 66 meno 1 56 vertibili 65 va bene allora cosa volevo farvi vedere allora ragazzi vi dico subito che c'è un 45 54 nell'aria c'è un 45 54 nell'aria o col 9 o col 90 e si gioca sempre io non vi posso dire la ruota eh non ve la posso dire perché vabbè con le ultime estrazioni le condizioni sono su più di una ruota ahimè sono su più di una ruota però questo 45 54 o con il 9 o con il 90 c'è allora detto ciò vi faccio vedere un'altra cosa allora vediamo un attimo sì o posso partire da qua oppure devo tornare indietro no partiamo da qua ragazzi allora un attimo che scrivo sul sempre sul mio famoso quadernone un attimo solo allora siamo sempre dal 42 32 più 8 50 e 40 totti gli zeri 45 54 d'accordo allora però 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 ritorno a darvi un metodino che ho dato un po' di tempo fa datemi datemi solo il tempo di scrivere allora allora ragazzi partiamo sempre da questo ambo eh 42 32 è vero che ci dà il 50 e 40 adesso vi faccio vedere un'altra cosa andiamo con calma una cosa alla volta allora un'altra variante che si può fare ma questo perché si fa per avere la conferma dei numeri un'altra variante che si può fare con l'ambo di uguale cadenza dobbiamo moltiplicare le cifre quindi in questo caso 4 per 2 ci dà 8 3 per 2 ci dà 6 ok allora 8 e 6 messi insieme guarda caso 86 68 quello che vi ho scritto qui guarda caso guardate caso fateci caso eh 68 86 che poi ovviamente ci dà il 14 poi quando noi abbiamo il 14 come numero finale diciamo numero finale è chiaro che è chiaro che sì allora facciamo così è chiaro che quando ci dà il 14 abbiamo la figura 5 che è sortito su Bari ma se noi lo scriviamo in questo modo il 14 somma 5 le ultime due cifre eh 45 54 va bene ragazzi 45 54 poi adesso possiamo fare la stessa cosa con Lambo 56 e 46 ci dà 60 e 50 quindi 65 e 56 nuovamente quello che vi ho detto prima 65 e 56 chi lo sa questo 65 e 56 potrebbe andare su Torino nazionale chi lo sa chi lo sa dove potrebbe andare il 65 e 56 discorso che vi ho fatto prima del numero giamello va bene mi fermo qua se non dico troppe cose allora adesso prendiamo il 56 46 eh vi faccio il vi scrivo il metodino vi scrivo il metodino un attimo solo allora un po' di pazienza ragazzi allora penso che con questo ultimo eh scritto veramente vi do dimostrazione di tutto allora spero che si veda bene io mi metto sempre in contro luce allora 56 46 ragazzi stessa cadenza il mio metodo uguale cadenza diventa 60 50 65 56 perché si va ad aggiungere il numeretto 4 perché dobbiamo avere somma 10 con l'unità allora poi come abbiamo fatto l'altro giorno col 4 facciamo la figura dell'ambo 56 e figura 2 col 4 24 42 il 46 6 più 4 10 figura 1 col 4 14 41 avete visto eh la conferma eh la riconferma di questi numeri poi 24 è figura 6 e il 14 è figura 5 65 e 56 nuovamente che sono i vertibili del 66 poi sulla destra qui la moltiplicazione 56 6 per 5 30 46 4 per 6 24 benissimo vi ho già detto che manca anche il 30 30 meno 24 fa 6 che l'abbiamo visto 30 più 24 fa 54 oppure 45 vertibile ma le figure quali sono del 54 e 45 figura 9 lo mettiamo sulla destra le ultime due cifre di destra 49 e 59 e dove sono sortite dove sono sortiti questi numeri questo ambo ta 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 ruota di venezia 49 e 59 quindi 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 togliendo il 9 cosa rimane? 54 45 anche perché ragazzi anche qui 60 e 50 anche qui comunque 4 per 9 36 5 per 9 45 figura 9 entrambi i numeri chi lo sa poi 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 ci sono veramente vi sto facendo impazzire oggi ci sono troppe condizioni però i collegamenti ci sono ragazzi perché io li vedo perché magari ho un altro occhio ho l'occhio critico come si dice mi arriva subito all'occhio la condizione allora 49 e 59 Bari 56 46 voi vi chiederete ma cosa c'è di cosa c'è di 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 particolare ve lo dico subito allora i 6 non è altro che un 9 al contrario eh quindi eh chi lo sa che magari 56 46 eh non si presentino sulla ruota di Venezia e magari 49 59 si trasferiscono sulla ruota di Bari chi lo sa tutto è possibile tutto è possibile ragazzi veramente vi ho detto troppa troppa roba troppe cose troppe cose però io quando vedo le condizioni non posso fare altro eh ricordatevi solo che quando trovate due numeri in prima posizione su due ruote e devono essere solo due molte volte i numeri si spostano su queste due ruote abbiamo visto Bari Torino prima 6 24 su Torino e adesso l'ultima estrazione 24 su Bari e 6 su Torino ragazzi veramente più di così ecco vi stanno anche chiamando ragazzi più di così non so veramente che cosa dirvi va bene allenatevi come sempre se qualcuno ha delle richieste particolari da farmi qualcuno di voi non ha capito come al solito mi scrivete sui commenti allora ragazzi vi saluto vi abbraccio forte e buona fortuna per questa sera ciao a tutti